Ecco, anche qua come appunto i cesti vediamo varie forme, vari utilizzi che un po' raccontano della grandissima esperienza nell'arte della pesca, delle genti che abitano in questo borgo. Beh certo, le nasse non venivano utilizzate soltanto nel mare, ma anche nei fiumi. Abbiamo qui per esempio le anciusas, che sono delle nasse che servivano per la pesca delle anguille. Anzi, solitamente si pescavano le larve delle anguille, le anguillette più piccole in questo caso, e poi si facevano crescere nei vivai. Ecco, quindi quasi delle trappole per rimpinguare i vivai che erano così importanti, per avere del nuovo pesce quasi, delle nuove anguille. Degli strumenti per la pesca e per il sostentamento. Qui per esempio invece abbiamo una nassa particolare, che non è una trappola, ma è un contenitore. La chiamiamo nassa perché è fatta con lo stesso materiale e con la stessa tecnica. In realtà questa che vedete qui rimaneva presa alle barche e serviva come contenitore per i pesci pescati. Adesso appena si pesca si mettono subito nei freezer, nelle barche, nei peschereggi, direttamente a bordo. Mentre prima volta nelle battute di pesca anche molto lunghe, quando si stava fuori diversi giorni, si rischiava che il pesce pescato il primo giorno, quando poi si tornava in porto, insomma era già andato. Allora si lasciava vivo in acqua dentro queste nasse vivai. Ecco, poco fa, transitando, abbiamo intravisto una imbarcazione creata con materiali vegetali intrecciata, i spassonis. Anche quella in realtà la consideriamo un oggetto intrecciato. Meglio, abbiamo due tipi di imbarcazioni, due tipi di fassonis con due diversi mezzi di locomozione. Quello a cantone e quello a remi. Eccoci, quindi in pratica mi stavi raccontando delle tipologie di imbarcazioni che vengono a essere utilizzate negli stagni, quindi degli ambienti particolari, no? Ma non in tutti gli stagni. Negli stagni di Cabras e di Santa Giusta, quelli che troviamo vicino all'Oristano. Anche se in realtà questo tipo di imbarcazioni sono comuni nel mondo. Per esempio le balsas che si trovano nel lago Titicaca, le dicoa del Golfo Persico. Anche in Italia, in Sicilia, c'è la varchetta di Ancidi che veniva realizzata nel lago di Lentini. La costruzione è molto semplice. Ci sono tre fasci per la base e due per le sponde. Abbiamo detto che qua abbiamo due modelli di fassoni. Quello a cantone. Il cantone non è altro che questa pertica lunga che si arriva per darsi la spinta e scivolare nello stagno. Mentre l'altro modello che abbiamo là, vedete che gli attacchi e gli scalmi per i remi. In quel caso i pescatori andavano a pescare in coppia. Uno remava e l'altro srotolava il palamito. Mentre per quanto riguarda il fassoni a cantone, era solitamente l'imbarcazione preferita dai pescatori di frodo. Perché lo stagno di Cabras era padronale, aveva un proprietario. Quindi chi voleva pescare sullo stagno doveva stipulare un contratto e versare spesso anche gran parte del pescato. Quindi a volte anche chi aveva il contratto all'occasione andava a pescare di frodo. E siccome attorno allo stagno c'erano le guardie, quindi bisognava utilizzare un mezzo di locomozione che non facesse rumore. Perché i remi si facevano rumore. Quindi pensa quanti erano abili. Perché a parte che stavano in piedi in equilibrio. Si muovevano con la pertica, quindi dandosi la spinta nel fondale. E poi pescavano con una fiocina. Quasi dei gondolieri, oserei dire. Abilissimi anche perché i mugini, lo stagno di Cabras è ricchissimo di mugini, da quelli che poi vengono utilizzati per la bottarga. I mugini sfrecciavano davanti, loro li infilzavano con la fiocina, li mettevano dentro questo contenitore qua che si chiama cadiu. E poi una volta terminata la pesca, tiravano il fassone in secco e lo poggiavano a asciugare sulla base. Vedi che a poppa è tronco. E' fatto in modo che una volta terminata la pesca venisse trascinato a riva, appoggiato sugli alberi oppure sui demi a sgocciolare. Questo per evitare che stesse troppo tempo a contatto con l'acqua e quindi tendesse a marcire. Perché è fatto di fieno, è fieno palustre. Nonostante questo trattamento, dopo due o tre mesi di utilizzo, il fassone andava cambiato. Veniva abbandonato, anche questo tutto completamente biodegradabile, anche le corde. Erano fatte dello stesso materiale, ritornava alla natura, anzi concimava per nuovo fieno. C'è un qualche richiamo a delle imbarcazioni dell'antichità, non so, anche della preistoria. Ti viene in mente una forma similare a tua detta in sostanza? Beh, certamente. A volte si è pensato che ci possessero essere stati dei contatti, almeno fra gli egiziani e i sardi del periodo. Noi adesso non li escludiamo, con gli ultimi studi sui Cerdana non escludiamo i contatti. Però abbiamo sempre pensato che in realtà la similitudine delle imbarcazioni sia stata data dalla stessa esigenza. E dallo stesso materiale che si aveva a disposizione, o meglio, del materiale simile. Loro usavano il papiro, noi usavamo, usiamo ancora, il feo. Beh, adesso per la navigazione della pesca non si utilizza più. Però c'è una regata folcloristica che si fa nell'ultima giornata, nell'ultima domenica di agosto, penso, mi pare. Dove i navigatori sui fassoni si sfidano in gara. E' anche molto bella. In onore, credo, di San Salvatore, che sia il patrono di Cabras. Ecco, con i sfassoni praticamente abbiamo visitato un po' questo museo, questo spazio espositivo, che è veramente una sorpresa e raccoglie, come abbiamo visto, varie tipologie di produzioni di diverse parti dell'isola. Quindi consigliamo a tutti coloro che vogliono visitarlo di venire al castello di Castelsardo e di addentrarsi veramente in questo scrigno per scoprire effettivamente un'arte della Sardegna, l'intreccio. Io ringrazio la cooperativa Il Cigno, che ci ha ospitato, il comune di Castelsardo e tutte quelle persone, tra cui il nostro operatore Roberto, che ha voluto seguirci in questo percorso culturale e soprattutto Donatella Sini, che ci ha voluto regalare questo bellissimo viaggio emozionante all'interno di queste sale. Grazie a voi. Vi aspettiamo comunque. I nostri visitatori sono abbastanza numerosi, non ci possiamo lamentare, però noi siamo qua, venite a trovarci. Un saluto e a presto. Grazie.